A Galatone è andato in scena il musical realizzato nei mesi scorsi dai ragazzi coordinati dal maestro Diego Gira, direttore artistico della nuova associazione musicale Salvatore Gira, che hanno seguito il progetto finalizzato a promuovere la coesione e la partecipazione nella comunità, sia locale che provinciale, allo scopo di contrastare i fenomeni di marginalità e disagio degli adolescenti e sensibilizzarli alla legalità. Il progetto La Giusta Nota è nato proprio con questo intento, quello di sottolineare quelli che sono i principi della legalità, della giustizia, e sottolinearlo con il fare, con il fare dei ragazzi. I ragazzi in questo progetto si sono cimentati a costruire un musical, partendo dalla lettura critica e attenta del libro di Luigi Garlando, per questo Mi Chiamo Giovanni, e hanno costruito dialoghi, scene, composto musiche, realizzato la registrazione delle musiche, per la messa in scena di questa manifestazione che speriamo sia di gradimento al pubblico. Teatro, musica e le abilità dei ragazzi al servizio di grandi valori, è della figura di Giovanni Falcone che rivive attraverso questo splendido musical che consegniamo questa sera alla comunità di Galatone. Un progetto davvero avvincente, di cui tutta la comunità sentiva l'esigenza.